E' scattato a Carpasio, in provincia d'Imperia, il campionato italiano di velocità in salita 2011. Lo splendido paesino nelle montagne Liguri ha fatto da cornice ad una bellissima manifestazione organizzata dal neonato motoclub squadra corse Padalucco. Discreta l'affluenza di pubblico, nonostante un meteo incerto che si è trasformato in un temporale estivo proprio allo start della prima manche di gara. Ben 144 gli iscritti nelle varie categorie e la vittoria assoluta è andata al pilota di casa Francesco Curinga con il tempo di 1,36 e 96. Le varie classi hanno visto la vittoria di Marco Queirolo nella 125 Open, Cristian Olcese nella 250 Open, Francesco Curinga nella 600 Stock, Stefano Manici nella Naked, Stefano Zanoli nella 600 Open, Loris Pedriali nella Super Motard e della coppia Simon Cerioni nei Sidecar. Questi due giorni di sport e spettacolo hanno visto anche la presenza delle moto d'epoca che nelle varie categorie gruppo 4 e gruppo 5 hanno aggiunto una nota di colore alla manifestazione. A Isola dell'Iri si è disputata la seconda prova del campionato italiano di velocità in salita e la splendida cittadina in provincia di Frosinone ha accolto nel migliore dei modi tutti i partecipanti. L'organizzazione gestita dal locale Motoclub Franco Mancini 2000 ha riportato in alto questo evento sportivo, riuscendo con un'ottima preparazione a ricandidarlo sicuramente come prova di campionato italiano anche per il 2012. L'ormai classico tracciato Ciociaro-Poggio-Vallefredda, dove i centauri italiani si battagliano da ben sette edizioni, ha visto una buona affluenza di pubblico e questo anche grazie al meteo che è stato dalla parte degli organizzatori ed ha regalato due bellissime giornate estive. Discreto anche il numero di partecipanti che nonostante la gara fosse molto lontana per la maggior parte di essi, sono stati ben 112. Al termine della giornata di prove del sabato, il Motoclub Franco Mancini 2000 ha organizzato una cerimonia di commemorazione alla curva della roccia spaccata, intitolata al giovane pilota bergamasco scomparso Fausto Ducci. Tutto il Motoclub e molti piloti si sono riuniti per un attimo di preghiera e di ricordo per l'amico venuto a mancare due anni fa. Sul finire della sessione di prove ufficiali, la rottura del sidecar numero 933 dell'equipaggio Barbie Doradori inonda il tracciato d'olio, costringendo gli organizzatori ad uno sforzo enorme per ripristinare il tracciato. Risistemato il percorso in tempi record, la vittoria assoluta con il tempo di 1, 19 e 15 è andata il pilota bergamasco Stefano Bonetti, che saltata la prima prova di Carpasio fa il suo esordio di stagione in salita nel migliore dei modi. Le varie classi hanno visto la vittoria di Marco Queirolo nella 125 Open, Roberto Erba nella 250 Open, Stefano Nari nella 600 Stock, Stefano Manici nella Naked, Stefano Bonetti nella 600 Open, Giuliano Covezzi nella Super Motard, dell'equipaggio Ozimo Zanarini nella categoria sidecar e di Michele Urbano nella classe scooter, non valida per il campionato italiano e che ha visto solamente due piloti al via. Ad aumentare lo spettacolo e ricordare un glorioso passato hanno pensato le moto d'epoca in gara nelle varie categorie gruppo 4 e gruppo 5, con la vittoria assoluta di Carlo Leoncini in sella alla sua Ducati 500. Il paese di Vellano ha ospitato la terza prova del campionato italiano di velocità in salita. La piccola località situata nelle colline del comune di Pescia venne soprannominata già nei tempi antichi la Svizzera Pesciatina e resa famosa in tutto il mondo per i suoi fiori, uliveti e la caratteristica pietra serena di Vellano che viene sapientemente lavorata a mano. Due splendide giornate di caldo e sole hanno fatto da cornice la gara organizzata dal motoclub Vellano Durote, che ha visto ben 141 concorrenti iscritti nelle varie categorie. Sesta edizione per questa amatissima gara, con un tracciato leggermente rivisto rispetto a quello delle passate edizioni. Buona anche l'affluenza di pubblico toscano, che ha ammirato e applaudito, come sempre, lo spettacolo offerto dal campionato italiano di velocità in salita. La vittoria assoluta è andata al pilota Stefano Bonetti, che nella seconda manche ha fatto registrare un tempo veramente incredibile, salendo a macchino in un minuto 30 secondi e 71. Il pilota bergamasco, proprio nella fase conclusiva della gara, ha dato la zampata finale, con il suo secondo successo stagionale consecutivo. Nelle varie classi vincono Marco Formenti nella 125 Open, Cristian Olcese nella 250 Open, Francesco Curinga nella 600 Stock, Stefano Manici nella Naked, Stefano Bonetti nella 600 Open, Giuliano Covezzi nella Super Motard e l'equipaggio Ozimo Zanarini nei Sidecar, mentre nella categoria riservata agli scooter, non valida per il campionato, vince Pietro Gandolfo. Presenti, come sempre, anche le affascinanti e bellissime moto d'epoca nelle varie categorie gruppo 4 e gruppo 5 e a conquistare la vittoria assoluta troviamo Simone Pasquinucci, in sella alla sua Ducati. La quarta prova del campionato italiano di velocità in salita si è disputata nella bellissima Umbria e più precisamente a Spoleto. La piccola cittadina ha così accolto in maniera calorosa il Circus della velocità in salita sul nuovo tracciato Spoleto-Forca di Cerro. La realizzazione dell'evento si deve al motoclub Spoleto, che dopo l'ultima competizione in salita organizzata nel 1980 con la Spoleto-Monteluco, ha deciso di rientrare in questo fantastico mondo curando questa manifestazione in maniera egregia. Ad accogliere sul nuovo tracciato spoletino i 110 piloti iscritti non solo un gran numero di spettatori a corsi per l'occasione, ma anche un fine settimana caratterizzato dal tempo incerto. Talmente incerto che la gara è stata interrotta per un violento temporale che alla metà della seconda manche classe Open ha nascosto nella nebbia la parte alta del tracciato, inducendo i commissari a dichiarare la gara bagnata per le restanti classi. La vittoria assoluta è andata al solito Stefano Bonetti, mattatore delle cronoscalate italiane, che in gara 1 ha fermato i cronometri con il tempo di 1.10.88. Le varie classi hanno visto la vittoria di Marco Queirolo nella 125 Open, Cristian Olcese nella 250 Open, Stefano Nari nella 600 Stock, Stefano Manici nella Naked, Stefano Bonetti nella 600 Open, Marco Giovannoni nella Super Motard e dell'equipaggio Ozimo Zanarini nella categoria Sidecar. Anche le gloriose moto d'epoca, presenti nelle varie categorie Gruppo 4 e Gruppo 5, hanno contribuito ad animare questa bellissima due giorni di sport e spettacolo e il dominatore di questi mezzi tanto ricchi di fascino è stato Carlo Leoncini, che in sella alla sua Ducati ha conquistato la vittoria assoluta. La quinta prova del campionato italiano di velocità in salita si è disputata in provincia di Lucca, nella bellissima Garfagnana e più precisamente a Sillano, il piccolo paese che come ormai fa da 40 anni ha accolto il Circus della velocità in salita sullo storico tracciato Sillano-Ospedaletto. La realizzazione dell'evento si deve al Motoclub Firenze, che si è avvalso della preziosa collaborazione del Motoclub Garfagnana e dei ragazzi della Proloco di Sillano. presenti, come sempre, in maniera massiccia. Con 190 piloti sull'elenco partenti si è stabilito il record stagionale per questa classica ad agosto e mentre il sole e le nuvole si sono alternati rincorrendosi per due giorni, un gran numero di spettatori ha invaso fin dal giovedì i prati adiacenti al tracciato, formando dei piccoli campeggi. Così, alla bellezza del tracciato e del paesaggio circostante, si è aggiunta la suggestione del pubblico e la vista dall'alto della curva del laghetto, dove si è registrata la maggiore concentrazione di spettatori e risultata davvero d'impatto. Per la vittoria assoluta è stato ancora una volta Stefano Bonetti a rendersi protagonista della gara, questa volta avendola meglio su Alessio Corradi grazie a due salite eseguite a regola d'arte che gli hanno permesso di vincere entrambe le manche e di far segnare anche il miglior tempo assoluto, fermando i cronometri su 1 minuto 41 secondi e 33. Le varie classi hanno visto la vittoria di Marco Queirolo nella 125 Open, Simone Bertoncini nella 250 Open, Francesco Curinga nella 600 Stock, Stefano Manici nella Naked, Stefano Bonetti nella 600 Open, Giuliano Covezzi nella Super Motard e dell'equipaggio Ozimo Zanarini nella categoria Sidecar, mentre Alessio Tarabella si è aggiudicato la vittoria nella categoria riservata agli scooter, non valida per il campionato italiano. Presenti come di consueto e per l'occasione anche numerose, le bellissime e affascinanti moto d'epoca hanno visto 45 piloti iscritti nelle varie categorie gruppo 4 e gruppo 5 e Carlo Leoncini ha conquistato la vittoria assoluta in sella alla sua Ducata. La sesta e penultima prova del campionato italiano di velocità in salita si è disputata tra le colline della provincia di Parma, dove il piccolo paese di Bazzano ha ricevuto come ormai fa da sette edizioni tutti i piloti e gli appassionati di questo sport. I 137 iscritti che ha contato l'evento sono segno non solo dell'ottima organizzazione del motoclub Bazzano, ma anche del notevole interesse che questa disciplina riscuote. E a dimostrarlo ci ha pensato soprattutto il pubblico, decisamente numeroso e distribuito su tutto il tracciato e che ha potuto goder di due bellissime giornate di sole e gran caldo. Per la vittoria assoluta si è rivisto un bellissimo duello come a Sillano tra il campione Stefano Bonetti e lo sfidante Alessio Corradi. A spuntarla questa volta è stato Corradi che con due salite eseguite a regola d'arte ha vinto entrambe le manche facendo registrare anche il miglior tempo assoluto e fermando i cronometri su un minuto 36 secondi e 55 centesimi. Le varie classi hanno visto la vittoria di Marco Formenti nella 125 Open, Simone Bertoncini nella 250 Open, Stefano Nari nella 600 Stock, Stefano Manici nella Naked, Alessio Corradi nella 600 Open, Giuliano Covezzi nella Super Motard, dell'equipaggio Ozimo Zanarini nella categoria Sidecar e di Matteo Ridolfi nella categoria riservata agli scooter, non valida per il campionato italiano. Assegnati anche i primi titoli italiani dove Cristian Olcese si aggiudica quello della 250 Open, Stefano Manici quello della Naked, Stefano Bonetti quello della 600 Open, Giuliano Covezzi quello della Super Motard e l'equipaggio Ozimo Zanarini quello della categoria Sidecar. Presenti come di consueto le bellissime e affascinanti moto d'epoca nelle varie categorie gruppo 4 e gruppo 5 e dove a conquistare la vittoria assoluta è stato Carlo Leoncini in sella alla sua Ducati.